L'effetto del ciclo lunare, o l'unione o l'effetto lunare. Da che l'unione affetta i eventi naturali, stiamo chiedendo se l'unione anche affetta i mercati finanziari. Il ciclo lunare può essere diventato in 4 o 8 fasi. L'estudio del ciclo lunare non è inclusivo nel momento dei mesi individui, da che il mese del calendario Gregoriano costa 30,44 giorni, mentre il ciclo lunare costa 29,53 giorni. Ci sono diversi lavori in lettera che studiano questo effetto, specialmente nei giorni vicini al full moon. Jan, un lavoro del 2006, trova la correlazione con i ritorni del stock, in particolare i ritorni del stock index sono meno nei giorni vicini al full moon che negli altri giorni. Lucie, lavoro del 2010, trova questo effetto in metalli preciosi, dal 1998 al settembre 2007, e rappresenta che l'effetto è più pronunciato in silve che in gold, con molto piccola evidenza in platinum. Un'altra lista di altre strategie, il barometro di januari, non è giustificato da nessuna ragione apparente. Alcuni ricerche argomentano, con riguardo al S&P 500, che un genuario positivo è normalmente associato con un anno positivo, mentre un genuario negativo è un predictor di un anno negativo. La season dei anni della hemisfera . La strategia apre la posizione a l'opening price del primo giorno di trening del primo giorno della season e lo ferma a l'opening price del ultimo giorno di trening della stessa season. Il giorno del primo giorno, dal 1 al 31, apre la posizione a l'opening price di un giorno del primo giorno e lo ferma a l'opening price del primo giorno di trening del primo giorno. E' effetto dei FOMC . La strategia entra in i giorni del FOMC . Ci sono tattiche . Per esempio 3-3 significa che acqua al primo giorno di trening di trening prima di un FOMC e vendita nei trening trening vendita Finalmente la strategia acqua il primo giorno della serie e non vendono. Nel FOMC la strategia della strategia del S&P 500 è usata come benchmark per i ritorni dei portfolli anomali per i ritorni